Rene! Vai 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 vai! Un cavo al polizia di questo posto! Devi levare dai c***i! Devi levare dai c***i! Ma quando mai sei venuto te il quarterino del 25 aprile? Sempre! Levatti dai c***i! Ha ragione, levatiti il qu***i! Guarda te lo stanno dicendo tutti, te lo stanno dicendo... Quando mai la Liga si è presentata il 25 aprile? Se sei un provocatore sei, levatevi dai c***o, sei un provocatore, levatevi dai c***o, fuori, fuori dal corteo, fuori, sei un provocatore, sei un provocatore, sei un provocatore, è quel partito fascista di un c***o, pensi che sei preso due volte, adesso vuoi fare lo che si fa? Allora Paolini, fuori le Lega dal corteo, perché? Perché sono della Lega, non sei mai venuto, io sono sempre venuto, quando ero deputato di 5 anni, sempre il 25 aprile, perché è una presenza istituzionale oltretutto, è venuto un signore tra l'altro ben più piccolo di me che mi spinto, anzi mi spingeva aspettando che io reagissi e chiaramente poi gridare alla violenza fascista, io sono qua e ci resto perché non vado via, mi devono proprio picchiare, non ho certo paura, uno per uno li prenderei a questi qui, uno per uno, a quello lì in particolare, sarei curioso di affrontarlo a tu per tu, per vedere cosa ha nella testa.